Una giornata di prevenzione per i cittadini organizzata dalla Croce Rossa di Pescia contro le malattie cardiovascolari e metaboliche. A disposizione della cittadinanza due tende fornite ed allestite dall'ottavo centro di mobilitazione Croce Rossa italiana, all'interno delle quali con l'ausilio di medici del corpo militare e di infermiere volontarie è stato possibile effettuare uno screening completo e gratuito. A coloro che hanno deciso di sottoporsi ai test sono stati effettuati la misurazione della pressione, l'elettrocardiogramma, la valutazione attraverso digitopuntura della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi. Per un ringraziamento particolare all'ispettorato infermiere volontaria, al corpo militare, al comitato locale di pesce della Croce Rossa era presente anche Oreste Giurlani, presidente provinciale della Croce Rossa. Come l'anno scorso viene fatta una giornata di prevenzione e questo dimostra della Croce Rossa, l'avvicinanza ai cittadini e alla comunità locale e quindi il fornire una struttura che possa dare delle risposte ai cittadini è una delle priorità della Croce Rossa. Quindi è anche l'invito a venire in Croce Rossa, avvicinarsi alla Croce Rossa perché è una realtà importante di pesce e direi di tutta la provincia.